Per il terzo anno consecutivo il Comune di Calatabbiano, assieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale impegnati nei progetti comunali Gemma a favore degli anziani e dei disabili e in tour per il turismo, ha aderito all'iniziativa nazionale La Gardenia di Aism, promossa annualmente dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e attiva nei giorni scorsi in 5.000 piazze italiane per raccogliere fondi a favore della ricerca. Tutto il ricavato circa 500 euro verrà impiegato nei progetti di ricerca scientifica d'eccellenza, mirati in particolare a trovare soluzioni per la sclerosi multipla pediatrica. Siamo soddisfatti del sostegno economico dei cittadini a favore della ricerca scientifica, dichiara la referente di zona dell'Aism, Lilli Strazzeri. Ringrazio i volontari del Servizio Civile Nazionale e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Intelisano, in particolare la consulente alla cultura Melita Limina, per aver supportato e promosso nei tre giorni in piazza Vittorio Emanuele e durante la giornata della donna la campagna di raccolta fondi.